Una ricostruzione di qualità ingegneristica ma anche estetica perché sia bella e duratura. Continua Norcia l'operazione del commissario straordinario Guido Castelli che ha fatto il punto della situazione insieme al presidente della Fondazione Maxi Museo Nazionale delle Arti dell'XI secolo Alessandro Giuli sul protocollo d'intesa siglato tra loro. Presenti l'assessore della Regione Umbria Paola Gabiti e il vice sindaco del Comune di Norcia Giuliano Boccanera l'obiettivo del protocollo è quello di supportare i comuni delle cratere per lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana e territoriale legati alle risorse territoriali, al rilancio dell'economia culturale e sociale con particolare attenzione alla qualità architettonica e urbanistica dei programmi che vengono portati avanti. Tra le finalità dell'accordo anche l'istituzione di un gruppo di lavoro destinato alle strategie di sviluppo economico, culturale e sociale. Una strategia che alla ricostruzione e alla riparazione aggiunga anche un'estetica del terremoto un tratto culturale contemporaneo e rispettoso comunque delle nostre identità che indichi in questa grande area che va da Fabriano all'Aquila, da Camerino fino a Spoleto passando per Rieti la possibilità di un discorso comune, di una presenza culturale, di un'estetica del cratere del centro Italia di cui secondo me c'è grande bisogno perché qui è la culla della nostra civiltà. Il Maxi si mette a disposizione per un lavoro di affiancamento della struttura commissariale e di ascolto delle istanze del territorio in tutta la zona del cratere e mette a disposizione della comunità il proprio sapere museale. Nel corso dell'incontro l'annuncio che per il giubileo del 2025 la Basilica di San Benedetto tornerà ad essere fruibile con fondi stanziati per promuovere percorsi di pellegrinaggio che riscoprano queste aree colpite dal sisma del 2016.